Quando abbiamo qualcuno al nostro fianco... Papà, guarda che è brave! Ci sentiamo ora un attimo, guarda. Ci sentiamo pronti a buttarci in nuove avventure. Aspetta, aspetta! A tornare sui nostri passi. Ci sentiamo pronti a prenderci cura di noi. Pronto? Il futuro ci aspetta. Facciamoci trovare pronti con Active Benessere. La polizza completa e personalizzata per proteggere la tua salute e quella della tua famiglia. Chiedi agli agenti Cattolica. Cattolica Assicurazioni. Pronti alla vita. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su cattolica.it Grazie a tutti.